allora salve cari amici eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video bene un po di tempo quindi vorrei condividere con voi un video altamente improvvisato allora davanti a me ho il mappamondo diciamo che la parte di nostro interesse che l'asia l'asia minore l'europa l'oriente prossimo l'oriente medio l'oriente estremo e così via discorrendo che vogliamo fare alcuni ragionamenti una parte di questi comunque li abbiamo già trattati negli anni allora come già detto nel video precedente quello che si sta concretizzando in questo momento ok fra la russia e l'ucraina o l'ucraina se lo volete dire nell'originale o in maniera italiana è un qualcosa di epocale considerate che una cosa del genere non si verificava dalla famosa tensione dei dei missili di cuba ok tutti quanti ce lo ricordiamo molto bene ed allora che non succede più nulla di simile neanche nel 2014 che comunque fu un evento importante ok la presa della 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 crimea da parte della russia fu un evento importante eppur quel episodio non è da paragonarsi con quello che sta succedendo adesso è un qualcosa di estremamente grave molto grave al di là di come andranno le cose a tal proposito ci siamo già espressi ma comunque anche in questa occasione ci sarà un prima e un dopo c'è il mondo non sarà più lo stesso da questo momento in poi a prescindere ripeto noi non possiamo dire nulla nessuno può dire nulla e però possiamo opinare quindi noi ci siamo già espressi differenza della del 99,99 per cento dei predicatori che giro nel mondo che danno ormai per scontato un attacco da parte della russia noi semplicemente ci opponiamo a questo come parere personale il che se è così semplicemente come se dice a roma ci abbiamo azzeccato tutto qua è un mero parere personale secondo noi non ci sarà adesso secondo noi però bisogna vedere ma al contempo valga la ridondanza nessuno siccome nessuno può dire sì o no certamente l'attacco ci può benissimo essere perché l'attacco ci può essere allora vi desidero dare un per chi non lo conosce ci sono persone che seguono il canale che non conoscono di queste cose altre che ne sanno un guardo più di noi quindi mi rivolgo chi non conosce nulla di queste cose allora al di là della storia dell'ucraina e tutto quanto del discorso che ha fatto putin nei confronti dell'ucraina che l'ucraina quello quello che ha detto putin è un frutto della vecchia urs quando ancora prima della vecchia urs scusate ancora prima molto prima della vecchia urs quando praticamente sarebbe stata ceduta che non avrebbe neanche una propria identità nazionale tutte sciocchese ovviamente ma al di là di quello che adesso ce l'ho qui nel nel mappamondo ok vado a prendere un attimino la russia allora mi sono perso l'ucraina dove sta l'ucraina allora abbiate pazienza perché voglio vederla bene ok eccola qua trovata non la trovavo ok l'ucraina sta in un punto geografico molto particolare ok perché l'ucraina non fa parte in questo momento del blocco russo allo stesso tempo non fa parte del blocco nato che è la parte occidentale europea per questo nasce la nato o la otan come la vogliate chiamare che cosa succede se l'ucraina entra a far parte della nato in poche parole speciole arriva la nato ci mette i missili dentro di ogni specie e praticamente neutralizza la russia da un punto di vista militare perché da quel momento la russia tutti i missili che lancerebbe in caso di una guerra verrebbero neutralizzati da tutte le batterie antimissili posti dalla dalla nato in ucraina la maggior parte verrebbero neutralizzate quindi la russia perderebbe la sua potenza militare viceversa viceversa se la russia attacca l'ucraina e ne prende possesso farebbe l'esatto opposto cioè andrebbe a mettere tutti 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 i miti tutte le batterie missilistiche e praticamente l'occidente avrebbe lo stesso problema quindi qualunque delle due potenze penetrasse dentro l'ucraina sarebbe uno scacco probabilmente matto diciamo uno scacco nei confronti dell'arta potenza quindi come si risolve questo problema cioè se io prendo questo muori tu se lo prendi tu muoio io e quindi come si risolve questo con un patto ecco perché è altamente improbabile la guerra ecco perché improbabile non vuol dire no in maniera tassativa quindi la situazione in questo momento è estremamente drammatica questo ci fa capire che se questo conflitto non si risolve il rapimento della chiesa è adesso adesso apro parentesi è scritto che il giorno del signore viene in maniera correndo in maniera frettolosa ragion per cui gli eventi accadono in un attimo infatti il coronavirus si è concretizzato in un attimo ci siamo ritrovati dentro il mondo è cambiato e questa cosa qua della russia si è concretizzata in un attimo infatti quando io ho sentito quella famosa voce che mi ha detto molti anni fa qualcosa di molto grande deve succedere poi io ne parlai e successe il fatto del coronavirus però io poi dissi sì e questo è epocale certamente mai successa una cosa del genere ma io sento nel cuore che non so se viene da parte di io è quello che io sento che deve succedere qualcos'altro di molto grande e continuo a avere questo sentimento mi sto chiedendo se fosse questo non lo so poi vedremo se sarà questo o se deve venire qualcos'altro una cosa è certa se fosse questo che io ho detto si concretizzasse ovvero se si concretizzasse la la parte peggiore e sa e questo è questo è molto peggio di tutto il coronavirus che c'è stato che già questo è epocale perché catapulterebbe il mondo dentro una terza guerra mondiale senz'altro ovviamente noi sappiamo che non ci sarà ma sensato dentro una mega guerra quindi il discorso ucraina è molto importante però io volevo un attimino tornare a un discorso riguardo il ragionamento già fatto e rifatto e strarifatto in molti video negli anni di Gog e Magog sto vedendo improvvisamente che molti colleghi fratelli colleghi che si occupano di escatologia e quant'altro inseriscono la cina in Gog e Magog allora la prima cosa che dobbiamo imparare e questo è tassativo è che in escatologia nessuno c'è l'ultima parola ok benissimo il fondamento della bibbia è chiaro però poi magari se nello specifico nelle nazioni di Gog e Magog una che ne so putte corrisponde a una nazione piuttosto che un'altra o gomer corrisponde a una nazione piuttosto che un'altra questo non è toccare il fondamento quindi una cosa un'altra cosa tassativa nell'escatologia nella profezia di Gog e Magog è che le nazioni non è così immediato decifrarle in maniera tassativa quindi noterete che nei secoli sono stati dati i più disparati nomi quindi noterete che alcuni hanno inserito determinate nazioni altri ne hanno inserite altre ok quindi questo è molto importante tenerlo in mente ma al di là delle nazioni singole quello che si è tassativo il blocco il blocco perché è scritto nero su bianco è il Norde e non solo il Norde anche l'estremo Norde e infatti io qui ho il mappamodo come già detto l'estremo Norde e si parte sempre da Gerusalemme e di questo ne ho già parlato eccolo qua questo è il Libano l'estremo Norde di Gerusalemme è Mosca dopo Mosca c'è il Polo Norde quindi non c'è più niente quindi è chiaro che Gog e Magog è la Russia e la Cina è un'altra cosa infatti una cosa è Gog e Magog e una cosa è Armagedonne con i re che vengono dall'estremo oriente dall'estremo sollevante quindi sono due cose diverse però quando i predicatori i miei fratelli colleghi inseriscono dentro Gog e Magog e anche la Cina che io non seguo questa linea di pensiero e ognuno deve scegliere la propria linea di pensiero quindi non è che dovete ascoltare me voi dovete fare i conti come li faccio io io non seguo questa linea di pensiero però però in un qual senso molto generale sono imparentati anche se Gog e Magog non è la Cina ma si c'entra la Cina ma di riflesso e lo spiego in questo momento apro parentesi in questo momento l'Europa una parte dell'Europa sta iniziando a sanzionare la Russia la Cina si è già espressa dicendo che non è d'accordo perché la Russia ha il diritto di difendersi quindi da una parte prima precedentemente la Russia aveva detto che la Russia ha il diritto di difendersi e l'Ucraina non deve essere attaccata come dire si è messa in mezzo però come già detto altresì poi quando parla con Putin noi sappiamo che la Cina gli ha fatto capire benissimo che se attacca l'Ucraina non gliene può portare nulla mentre invece Putin lo ha detto proprio in maniera ufficiale che se la Cina attacca Taiwan tranquilla per lei va benissimo ora tenete in conto mostro aprendo una marea di parentesi tenete in conto che fra Cina e Russia non sono alleati non sono amici perché sono due superpotenze che si vogliono mangiare la torta ovviamente voi le vedete insieme nella Nato non nella Nato nell'ONU perché perché si dice che il come dire il tuo nemico è il mio nemico e il mio nemico diventa il mio amico quando abbiamo due nemici in comune ok quindi siccome i russi sono nemici degli americani di conseguenza ai cinesi questa cosa fa comodo viceversa ecco perché li vedete insieme nell'ONU ma de facto loro non sono amici questo anche da un punto di vista geopolitico quando due grandi imperi fanno frontiera non ci può essere amicizia e se c'è dura da Natale a Santo Stefano come si dice a Roma ok però se se l'Europa gli dà le spalle alla Russia cosa che in un primo momento come già visto nel video precedente non conviene all'Europa però a un certo punto si gli dovrà dare le spalle perché perché ce lo dice la profezia infatti quando tu leggi Daniele capitolo 11 la seconda parte noi vediamo che all'anticristo che è il blocco occidentale della Nato e tutto quanto gli viene fatta guerra dal re del Norde e la Russia quindi a un certo punto ci sarà questa scissione quando la Russia e qui vado a colmare il ragionamento quando la Russia si vedrà chiudere le porte dalla Nato dall'Occidente e tutto quanto a chi si rivolgerà? alla Cina e comincerà a trafficare con la Cina quindi Gog e Magog è una cosa i re dell'Oriente Armageddon sono un'altra però sono imparentati perché a un certo punto la Russia deve concretizzare la vecchia Ursa e infatti stiamo già vedendo come sta mettendo alle proprie file la Bielorussia già sta prendendo l'Ucraina perché con questa mossa ha già messo il piedino dentro l'Ucraina e possono cadere Estonia Lettonia Lituania Polonia Slovacchia Romania tutte queste parti qua e allo stesso tempo invece la Cina dall'altra parte che è il blocco dell'estremo Oriente abbiamo invece Kazakistan Kirgigistan Uzbekistan Tajikistan Turkmenistan Azerbaijan Afghanistan e poi Pakistan è una potenza nucleare certamente insieme all'India non lo so quello poi si vedrà tutte queste zone qua alla Cina in qualche maniera si devono unire anche perché la Cina sta facendo la vecchia via della seta che guarda caso porta proprio a casa nostra Italia e passa sopra Israele sopra il Libano e noi sappiamo che per quella via i re dell'estremo Oriente passeranno per andare ad attaccare Israele nella guerra dell'Armageddon quindi Gogge e Magogge per me non è la Cina ma si sono imparentati con la Russia la Russia si è imparentata con la Cina in questa Gogge e Magogge ma non è la Cina in senso specifico ma si in senso generale secondo la mia scuola di pensiero secondo altre non è così no Gogge Russia Magogge Cina completamente a mio modo di vedere completamente sbagliato però ecco in questo dobbiamo veramente rispettare una cosa è certa io non dico Gogge e Magogge non è la Cina punta e basta no io dico Gogge e Magogge non è la Cina e poi lo spiego attenzione tu devi sempre spiegare le cose ok non è così oppure è così perché allora mi dai la spiegazione e allora sei in grado di giudicare perché ti è stata consegnata la conoscenza della situazione dei fatti e così via discorrendo capito è anche un fattore geografico perché la profezia di Ezechiele 38 parla in maniera tassativa estremo nord estremo settentrione è chiarissimo più chiaro di così manco l'acqua della piscina più chiara quindi Gogge e Magogge è questa la situazione è questa cosa succederà nessuno lo sa una cosa è certa quello che sta succedendo è epocale e stavo parlando poco fa con qualcuno come noi gentili abbiamo un brutto vizio che io sto correggendo da molti anni ovvero quello di non pensare in maniera adeguata la parola di Dio come dire noi abbiamo comandamenti di serie A comandamenti di serie B e addirittura comandamenti che non consideriamo comandamenti no la parola di Dio quando dice riguardate i segni riguardate dal fico riguardate i segni dentro la chiesa con quello che succederà dentro la chiesa riguardate quello che succederanno nelle nazioni e tutto quanto questo riguardare è un comandamento e è pari a altri comandamenti quali non rubare non adulterare non fornicare non dir male la testimonianza e così via discorrendo allora questi noi gentili li consideriamo comandamenti e comandamenti di serie A gli altri addirittura non li consideriamo comandamenti no un comandamento nella parola di Dio è un comandamento e quindi noi gentili dobbiamo imparare a considerare la parola di Dio per quello che è quando la parola di Dio ti dice riguarda è un comandamento pari a non rubare non ci so serie A e serie B attenzione a minimizzare i comandamenti della parola di Dio il Signore ci ha detto di riguardare i segni ed è un comandamento attenzione perché Dio ti ci chiamerà a rendere conto di come abbiamo considerato la sua parola insegnato parlato e messo in pratica bene questa è la situazione torno a ripeterlo quello che sta succedendo fra Russia e Ucraina è molto importante è molto importante al di là di quello che succederà già da oggi possiamo dire che si è concretizzato un prima e un dopo questa situazione non è come quella del 2014 che già è stata importante nulla a che vedere vedete quando io non mi sono pronunciato quando è successo quella cosa lì fra Israele e Hamas e tutto quanto perché sono vent'anni sono settant'anni che succedono solamente che non veniamo informati e molti di voi non lo sapete poi quando lo vedete no questa è una cosa completamente diversa Israele già è molto preoccupato e si sta già preparando perché qui se scatta se scoppia una bomba è effetto boomerang la Cina ne approfitterebbe subito la Corea del Nord ne approfitterebbe subito l'Iran ne approfitterebbe subito attenzione la guerra del Salmo 83 ne approfitterebbero subito i nemici di Israele in mezzo la grande confusione attaccare subito e un attimo in un secondo può cambiare il mondo succederà questo che vi ho detto succederà questo è tassativo succederà perché lo ha detto la parola di Dio quando non lo sappiamo ma occhio a quello che sta succedendo il rapimento è alle porte non date eretta ai dindirindini che non ci credono al rapimento della Chiesa perché lo hanno posto alla fine della grande tribolazione praticamente l'hanno tolto l'hanno annullato non ci credono è chiaro non ci credono attenzione mi voglio fermare qua non voglio aggiungere altro condividete questi video condividete le notizie annunciate Cristo annunciate il rapimento della Chiesa prepariamoci Signore sta alle porte come non mai con voi come sempre è stato Alessio Evangelisti se il Signore vorrà ci si vedrà al prossimo video programma Shalom Mara Natà Grazie a tutti